Le immagini che tra un po' vedete ovviamente non dipendono le persone, siamo con Deborah Seracchiani Le immagini che tra un po' vedete sono l'interno del GOAP, il centro antiviolenza sulle donne che Deborah Seracchiani ha visitato oggi e io non so se siamo rimasti più sul colpito di noi oppure lei perché solo in quest'ultimo anno sono state 243 esattamente le persone, le donne che sono rivolte per problemi in famiglia dei vari tipi, la violenza psicologica, quella fisica e sono solo i numeri che le persone che vengono su 200.000 abitanti è impressionante Assolutamente, infatti sono voluta essere qui oggi proprio per far prestare attenzione a questo tema che è un tema vero e che è un'emergenza, noi abbiamo una legge del 2000 che è stata tra le prime ad essere fatta una legge regionale importante che però poi non è stata mai aggiornata va aggiornata sia tecnicamente sia nei contenuti anche nel finanziamento ma soprattutto va fatto uno sforzo che è prima di tutto culturale e poi anche evidentemente normativo diciamo così, di mettere in rete tutte le associazioni, di mettere in rete tutti i servizi di creare le condizioni perché ci sia una politica di intervento rispetto a questo tema che è un tema sul quale dobbiamo prestare la massima attenzione Per quel poco perché puoi aver capito perché in realtà bisogna vivarci dentro alle cose che idea ti sei fatta su quanto magari la crisi, la situazione economica abbia influito su questo momento che ricordiamo è stato nel 20% in un anno e tantissimo Ma non c'è dubbio che questa crisi che è una crisi economica e finanziaria è diventata e sta diventando una crisi sociale ed è altrettanto chiaro che insomma subiscono di più la crisi quelle categorie che in qualche modo vanno aiutate anche protette se vogliamo, penso alle tante donne che si fanno carico dei carichi familiari che tornano ad avere quei pensieri e anche quella consapevolezza delle difficoltà che la crisi ormai sta toccando tutti quindi io penso che ci sia un'incidenza che derivi dalla crisi ma ci sia anche una maggiore consapevolezza di quello che si può fare per uscire da queste situazioni drammatiche Al di là di quelli che possono essere i programmi dei partiti c'è un problema quando nasce il gruppo certamente gli stranieri erano nettamente in forma minore adesso sono sempre più integrate, abbiamo sempre più queste coppie e vediamo soprattutto io mi ricordo il caso in provincia di Pordenone dove il padre uccise la figlia perché frequentava una persona di un'altra nazionalità, era italiana ma se fosse stata cinese o tedesca sarebbe stata identica come fare perché è molto più difficile aiutare delle persone che provengono da culture differenti anzi bisognerebbe più aiutare forse i genitori che non i figli Sicuramente ci vogliono le competenze come le competenze delle donne che operano qui nel centro che è una competenza che nasce dall'esperienza, dalla pratica e dall'essere sul campo da tanti anni ci vuole però anche una capacità di informazione che arrivi anche a quelle donne che sono magari le più difficili da raggiungere ci vuole anche una capacità di integrazione che tocchi i temi concreti, quelli della famiglia, dell'integrazione ad esempio intervenire nelle scuole in qualche modo per riuscire a raggiungere questi bambini che poi alla fine sono spesso l'unico strumento che hanno i genitori per comunicare con il paese che li ospita potrebbe essere anche qui quello sforzo culturale che ci permette di prevenire magari chissà non solo di salvare delle vite, di garantire anche un benessere delle famiglie ma penso anche in termini di tenuta del nostro tessuto sociale quanto sarebbe importante Io faccio un attimo un salto invece in un'altra parte perché stamattina stavo guardando un po' le varie cose su Facebook mi è arrivato un vecchio articolo del Messaggero Veneto sui vantaggi che avrebbe avuto il Fulenzia Giulia dal federalismo fiscale, il patto con la Sicilia fatto da Renzo Tondo dove si parlava effettivamente di fiscalità agevolata per le imprese qua finora abbiamo visto solo i soldi prosciugati ma di quello che Tondo aveva dichiarato un anno fa ben poco si è fatto adesso Tondo sta di nuovo riproponendo la stessa identica cosa anche la ConfCommercio ho visto a Gorizia non è che l'abbia presa molto bene della sua ospitata dell'altra settimana come la mettiamo? Perché qui servono situazioni pratiche e nessuno le ha viste io sono rimasto scolpito in fin commission tecnicamente quello che ho detto che bisogna fare stessa cosa però io devo dirlo sai benissimo che idea ho io non le ho viste da Tondo ma guarda prima di tutto partiamo da quello che abbiamo sbagliato quel patto con Tremonti che Tondo ha firmato non l'avrebbe firmato nessuno e parlo anche di persone di centrodestra non l'avrebbe firmato nessuno perché abbiamo dato 370 milioni di euro l'anno in cambio di niente io punterei a quello che hanno fatto altre regioni penso al Trentino Alto Adige che sì si impegna a entrare nel fondo di solidarietà del federalismo ma indietro si è fatto dare delle competenze le direzioni scolastiche si è fatto dare pezzi di infrastrutture si è fatto dare quindi la capacità di tenere sul territorio un po' di ricchezza quindi partirei da lì poi ovviamente partirei da quelle riforme che sono necessarie penso alla riforma istituzionale penso ad alcuni interventi che ad esempio sono ormai indilazionabili anche sulla città di Trieste penso che bisogna anche decidere quali sono le politiche industriali su cui puntare il porto penso che sia necessario anche avere un rapporto franco, sereno e anche direi costante con l'Europa perché molte delle cose che pensiamo di non poter fare si possono fare ne dico una per tutte siamo una regione a statuto speciale abbiamo una leva fiscale autonoma significa che possiamo modulare determinate tasse a seconda di quello che ci interessa fare su alcuni territori piuttosto che su altri su alcune imprese oppure su alcune attività lavorative beh insomma decidiamo di farlo qui siamo pronti e naturalmente significa anche però essere di nuovo una regione protagonista Senti, un politico serio non promette mai niente per una promessa noi te la chiediamo se diventi governatrice una delle prime cose che ti metterai a fare sarà un serio ufficio anche aperto al pubblico l'impresa per il reprimimento di fondi europei dove veramente siamo a non fare niente di coda non c'è manco il fanalino qua No, no, questo è un impegno che ho preso già nei primi cento giorni viene rifondato completamente è arricchito la direzione regionale delle politiche comunitarie e delle relazioni internazionali che si dividerà per settori per ogni settore ci saranno persone competenti che stanno lì, studiano quello che offre l'Europa chiamano loro i nostri comuni gli amministratori locali le nostre associazioni le nostre istituzioni per avvertirli che si apre un canale di finanziamento europeo ci sono bandi interessanti capiamo anche che tipo di cofinanziamento possiamo dare dalla regione insomma, visto che è una regione che ha meno soldi quindi magari darà meno risorse almeno che dia servizi grazie grazie